Deposizione Fiume in tribunale dell'architetto Giuseppe Gianrusso, ex direttore della protezione civile regionale, coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto sistema Iorio. Gianrusso è stato ascoltato in relazione alla selezione ribattezzata Concorsone, indetta all'interno dell'Agenzia di protezione civile per il reclutamento di personale. In realtà è stata una deposizione molto lunga perché si è trattato un pochettino di ricostruire tutti i passaggi di una piccola parte di questo procedimento che riguarda la questione del concorso e che è quella che interessa poi il mio assistito. Si è dovuto chiarire in realtà che si trattava di un concorso che né più né meno cercava in qualche modo di riconoscere il merito ai lavoratori già impiegati su determinati segmenti perché si tratta in realtà di una forma che è prevista dall'ordinamento giuridico sia nazionale che regionale che riguardava una forma di stabilizzazione dei precari e che né più né meno è stata utilizzata peraltro a più livelli sia dallo Stato che da altre regioni. Basti pensare che sul discorso dell'Abruzzo o del discorso delle Puglie il personale già impiegato sui segmenti del terremoto e quindi della ricostruzione è stato stabilizzato con delle leggi addirittura a tempo indeterminato. In questo caso è stata presa una precauzione in più perché si è fatto in una procedura concorsuale o più precisamente una procedura selettiva il cosiddetto, tra virgolette, in alcuni casi si fanno corsi con corsi, in questo caso si fanno delle prove semplificate con l'orale che quantomeno serviva a verificare un minimo di livello idoneativo del personale che si intendeva in qualche modo neanche stabilizzare a tempo indeterminato perché si trattava di un contratto a tempo determinato per tre anni. Questa è stata una scelta che è stata contestata. In realtà la questione è poi stata approfondita nel corso della deposizione dell'architetto Gianrusso e ha in qualche modo provato che non era una scelta sicuramente del direttore generale è una scelta che era stata compiuta dal Consiglio regionale con una legge che prevedeva questa modalità procedimentale e che peraltro era legittimata da una legge nazionale e che in questo caso era rafforzata non solo da un riconoscimento dei 9-10 anni in cui questo personale era stato impiegato in un'attività sensibile come quella ricostruttiva peraltro emergenziale, ma era finalizzata ad un interesse pubblico che era non bloccare la ricostruzione quindi non bloccare quelle attività che poi erano volte a salvaguardare interessi pubblici prioritarie e che quindi in quanto tale si giustificavano.